Ciao a tutti ragazzi, oggi sono qua per mostrarvi i trucchi di Subway Surf Mumbai per Android Allora, innanzitutto ovviamente non sarebbero i permessi root e se il video vi piace e volete il link perché non lo riuscite a trovare a dei trucchi basta scrivermelo nella descrizione e io appena leggo il commento ve lo metto Allora, ci ho appena giocato, appena iniziato e vi mostro subito qua sopra non si legge, comunque si vede qualche cosa di tante, delle monete infinite e i soldi infiniti che abbiamo vi volevo fare anche una breve recensione Allora, innanzitutto sono stati aggiunti due nuovi personaggi, o meglio uno che è Jay, lo speciale Mumbai e l'altro è il Tiger Outfit di Frank vedete, non mi ricordo quante chiavi costa, comunque se avete i trucchi come me, ci vuole me in poco ok, magari facciamo una partita di prova così vi dimostro, cioè così vi mostro com'è vedete come è cambiato il territorio non è più con l'ambientazione natalizia ma con quella indiana ok prendiamo la B comunque vedete Jay che è molto bello come personaggio anche se secondo me quella lì di Tiger Outfit di Frank è stata una bella trovata perché è molto carina questa idea poi, intanto, che mi ero dimenticato, vi volevo mostrare anche il board lo skateboard nuovo che è uscito è questo qua, quello del Bengala tutto integrato, molto bello anche questo ok, il video è finito ma prima di concludere vi volevo chiedere una cosa metto via il mio dispositivo Android e tiro fuori l'iPod Touch di quarta generazione vi volevo chiedere io una cosa e volevo sapere se potete trovarmi un tutorial appunto dei trucchi di Subway Surf Mumbai o anche Londra, basta che siano i trucchi di Subway Surf con le monete infinite e le chiavi infinite per iPod Touch di quarta generazione con iOS 6.1.3 senza sidia perché non dispongo del jailbreak e volevo davvero davvero trovarli solo che non posso trovare quelli sia per Android che per iPod Touch e alla fine ho preferito Android perché è anche molto più semplice va bene ragazzi spero che il video vi sia piaciuto e io vi saluto ci vediamo in caso appunto se il video vi piace